In questo momento chiedo ragazzi posso fare il video? Allora chi è che ha detto di no? Chi è il ricchione? Cosimo ore chi è che ha parlato? Ho sentito un po' bruttissimo Allora se esce, ve lo dico subito, se esce una cagata come ieri Lo cancello Lo cazzo avete messo a bandiera Allora Allora Anche la volevo mettermi di tra l'asqua La ho dovuto mettere di là Vengo io Sì, io sei tu Aspettami Facciami Stefano di là, che è più facile di là Dici? Sì Dopo gli ultimi collegamenti Tutti a fare la famosa Eh no ma dopo il primo di noi che fa sotto va subito sopra là E dai spiegatevi un attimo al volo Chi è che spiega vai Non ce l'ho già spiegato Già spiegato? Ah se quindi sta a posto? Sì E vai avviamo vai vai Aspetta aspetta ferma 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 Quindi io Flock E Stair E Stair Ok allora Poi Secondo e clocco lo prende per te Vabbè Vabbè No io lo prendi prima tu Ale Secondo Dark e terzo io Va bene Va bene Ok? Ok Perché ti lega te che sei lì? Vieni qua vai via da lì vai via 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 Sta lì Sta lì Sta lì adesso E' convenienza Vai stai avvicinati alla porta Stai 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 Ok fermo lì Ok vai Corri Andate giù che gli faccio io i cosi Andate giù a sinistra Sii vola Oh cazzo convinto di avere la carica Che c'aveva lo stregone Bravo Alla fine di super io sto con bomba nonno Mi va bene Si siamo qua non serve tanto più di tanto Ciclope 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 Guarda carico Clever Sta cagando il cazzo quel goblin là sopra Comunque ragazzi ho capito Io quando gioco con le cuffie C'avevo Tocca a me il giusto? 5% Adesso ce l'ho a 2% State qua vicino state State qua vicino che apro Aspetta Vai Ma cazzo io non ce l'ho sovraccarico Dico ragazzi qualcuno di voi se l'ha messo? Ce l'ho Io Ok Torna qua Non ci sta più capendo niente C'è una fagia come si guarda qui E' buono che è Ste vieni qui Ciclope ciclope Ok ciclope è qui Vado io in un secondo Vado io in un secondo Non è un altro qua ciclope Non è un altro qua giù Non deve prendere lo ste No io 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 secondo Ma è un altro primo Sì Ah che Mi attraccare con due volte Perché siamo qua No no Stefano Stefano devi torna indietro Stefano Stefano devi stare sempre insieme a loro Non devi staccare Ok 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 L'abbè l'avevo concluso Mi sentite che stai veni qua Vai vai dark dark Metti di qua 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 dove Vai vai Vado a prendere che è partito Mi spu Sputami Mi spu Vai aria Ok Presa 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 Non possiamo più prenderlo ragazzi Dove te muovermi Averto Ok andiamo di là E' 30 anni 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 Io te l'ho fatto Grande c'è sempre alta Sì perché A me non ho già sapevo E' pure che moriamo E' pure che moriamo Vida la verità Mokubo è lì a sinistra C'è il sovraccarico da fare Quando E' il primo che lo fa Il primo boss Perfetto Io sto a zero Posso prendere io Io sto sette Sei Prendo io Prendo io Ah vado io Vado io Vado io Ah Ok venite qua Dove sono io Adesso La fai te Allora dai Vai Vedi raga Figa Di là Ok no Fermi lì Andiamo su Andiamo su Andiamo su Andiamo su Andiamo su Prossima prossima No 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 Stai venito Ah non era di qua Aspetta aspetta Fagli attacca prima Poi saliamo Sono Parto Ora rimani lì E spostati un po' più Alla sinistra Vieni Dai lì Alla massima Io 30 secondi Non posso prendere Il vomitino Io faccio polizia Faccio polizia Faccio polizia Ok Prendi io Chi lo può prendere Lo va a prendere Ovviamente Vedete prima Come stanno gli altri Io lo posso prendere Sono libero Fai polizia Fai polizia Sono tornato alla vecchia scuola Con lì sanaghi Lì sanaghi Per fare polizia Per fare polizia Vieni a porto Vieni a porto Vieni a finito Vieni a porto Vieni a finito Dovresti fare anche il montage Con le canzone di fighettine Eh sì Così mi chiedono gli autori Della canzone di fighettine Qui è tutto costo zero Amico mio Beh è normale Ti fai prendere la casa? Ti fai prendere? Sì sì Venite a prendere la cassa Che poi prendere pure le mod Segui Alle trick Voi nel caso Ci tirate voi avanti Ragazzi Assolutamente No qualcuno vado avanti Non ce lo voglio Sotto il battito Sì sì Stai? Sono già rinato Sto piovendo Nel muschio Mio dio Vieni a vedere dove la cassa Mi sa che rivevo prima io Dio l'ho fatto Addo? No Guardiano a terra Se vuole scendere Sto ascensore Ti lascio gli aspettati Ti lascio io No C'è chiuso? Perché c'è chiuso? No Eh mantello Yeah Ripperoni 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 Guardiano a terra Eh ma Come salgo? Dalle Dalle Dalla Ascensore Aspetti che scende giù Eh Ascendi che scende giù Guarda dove sono Aspetta aspetta Ok tu non ho rispondato qua Ero giù in fondo tutto Ok ci sono Ah ma che schifo Che cazzo C'è un buco nel muro o cosa? Sì c'è una porta c'è Dove sei entrato? Io sono qua mi ricordo dove ero in giro Aspetta Però madonna 53 trova Cagata Aspetta aspetta Le mobilità 21 Questo qua Questo qua Questo qua Ci facciamo Così di carriera Così Aspetta 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 Stefano Non ti nervosire Vai saltamo Saltamo Vai 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 Veloce stai Dì come ci arrivo Scusa Se io prima non mi ci si appoggia Dai che bastardi No devi salire sull'ascensore Hai visto l'ascensore? No sull'ascensore Allora fermati Appena arriva giù Appena arriva giù Guarda quello che dove sta Vado a prenderlo da bene Prima ho fatto così E ho fatto un più della madonna Dai attivate dai Eh guarda Visto Eh no ma tu che c'è Lo stregone che c'hai Io non ci ho fatto caso Allora con lo stregone Praticamente fai un saltino E poi fai Tatan Fai Fino a quando Non ti si regolarizza Dai attiva dai Eh Ho fatto a modo mi Ecco E dai che gli facciamo prendere il suo drop E' preso Ok E' cadena resistenza Dai cadena no quello è buono per il raid Ok vai potete dire amo Vai Andate Vabbè raga fa facermi il festino hard Venite Eh devi stare attivo Sampi sono buona coppia Ok Ok Fai 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 Merda Lo vede st'altra strada com'era No Ma pure da qua si può passare Bello Ho tirato una legnata Sto qua Belli sussurro del verme Ah no Ah no Invece si Ok ho felato Volevo dire il nome Di destino Salute Ciao Allora partiamo o no? Dai raga Ah c'è arrivato Sì attiva Attiva dai Attiva Attiva Guardi Spiega a Gianduzzi Che tanti un'i24.99 Compresa con la spiegazione Quindi C'ha santa La libratura Un attimo Un attimo Un attimo La libratura La libratura Checchio 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 Ritorniamo E poi Possiamo spieghiamo Scusa Spiega tu Così Ti da Tre 30 e 50 E sta apposto Arrotondiamo 24 e 99 Esatto Ives scusa E' la stessa Abbonamento Quello del plus Esatto Faccio fattura Faccio fattura 24 e 99 Vuoi più io Allora Non sparate Non mi muovete No no Non sparate Se non sappia Che cosa che deve fare Ok vieni qua dove c'è La bandiera Qua stai fermo qua Allora Questa è Un pilone Che vedrai anche dopo Negli step successivi Ok Ce ne sono 4 Di questi qua Ok Questo è l'1 Poi Andando da sinistra Più avanti Poi il 2 Poi continui a giro E a destra E quello che entra l'avanti Sì sì no Sono 4 Tipo mezzo circolare Più o meno Ok Campo da baseball Tu stai sull'1 Che è quello più facile E quello che c'è Meno Meno casino Questo succederà Tu dovrai stare davanti A questo pilone E vedrai che ogni tanto O dal centro O da sinistra O da destra Poneranno Il minotauro Sì i vex Più il minotauro Che avranno una barriera Bianca davanti Ok il minotauro va acceso Troppo alle luce Raccoglie le luce E basta No Assolutamente Assolutamente no Ok ok Se vedi Dritto qua dal pilone Ti sposti Vedi che c'è il cubo Da sopra Ok Tu Assieme a Un jolly Che sarà quello Che Ce ne sono 2 Che sarà quello Che si sposterà Nel tuo caso Dalla piastra 1 Alla piastra 2 Questo qua Continuerà a fare Avanti e indietro E in 2 Dovrete legarvi Come prima E prendere il buff Ok Lo fai solo in 2 persone Perché non ce la fai Che è troppo distante Ogni Il buff Ti dura 30 secondi Ok Quando vedi Che sei tipo Sui 17 18 secondi Chiamerai Chi sarà Quello che fa il jolly Gli dici Piastra 1 Buff Oppure Dici il tempo che manca Ok Lui verrà Vi legherete E farete Il buff Senza buff Quelli con lo scudo Non li puoi fermare No E se vengono qua Ci sacrificano Moriamo tutti quanti Ok Quindi tu solitamente Devi fare pulizia Senza A un certo punto Ti sponderanno Ti ricordo gli angelici di prima Quelli che sponavano Tipo l'idra Quello grosso Sì Ok Ti sponderanno Sia Non contemporaneamente Però magari Prima al centro Poi a sinistra Poi a destra Sempre i soliti Vex con il minotauro E anche l'idra Tu dovrai ammazzarli Quando li vedi Chiama E chi ti venne a dare Una mano Per il corpo Da una mano Anche a ammazzarli Ok Stete cadendo Ok Questo giro qua Sarà da fare Ogni volta Che gli angelici Devono venire Per tutte e quattro Le piastre Quindi una volta Varanno da te Una volta Andranno da due Una volta Andranno da tre Una volta Andranno da quattro Quando tutti Avranno finito Proprio Operato Quella griglia Che vedi Lì in fondo La tua piastra Si toglierà Ok Non dovrai fare altro Che correre Praticamente Dritto per dritto Proprio Fino a che Arriveremo Al punto centrale Dove vedrai Tutti quanti Lì Ci sarà sempre Da ammazzare L'angelico Ci sarà sempre Un cubo Ci legheremo Tutti Ok E lì spawneranno Mille miliardi Di mostri Con la barriera E senza Eccetera Lo facciamo Un paio di volte Una volta che ho fatto Dopo sempre Ok Ok Quindi Io vado sempre Alla due Altrick Fagioli Uno due Si E alla tre Chi ci va? Io Io E Stefano 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 A sei Vieni dalle track Sto dietro di te Attento che muo Avvisi Allora praticamente Tu ti metti sulla uno Come ti hai detto Giando La super ti metti Le spade L'alba Come cazzo Come cazzo Si chiama Il solare E quello in alto E te lo tieni Solo quando arrivano I tre angelici Ok Quindi Quando durante la fase D'anno Vedrai che Il cubo viene ricoperto Da Da uno strato Bravi Ricchioni Che è cambiato Ah poi praticamente Ti finisco un attimo A spiegare Praticamente Quando vedrai Che arrivano Sti cazzi di angelici Cominci subito A fare Il danno Con la super Va bene Che poi tanto Arrivo pure io Appena arrivano Gli angelici Ti scegli un angelico E ti fai subito Quel lato Tipo che ne so Te ne vai a destra Io mi faccio quello Di sinistra E insieme Poi convergiamo Al centro Capito Questo per semplificarti La cosa Ci vai di super Non la fare Subito Che ti posso dire Mettiti un mitraglione Se ti dovesse servire Contro i Minotauri Anche se Ora i Minotauri Ricadono facilmente Non è più come prima Mettiti un oxenofagia Mettiti un oxenofagia Che ci fai pure Io uso Anarchia No raga Porco 2 Eccola ma Ma avete fatto Bestemiaggiando Dai 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 Raga Seri però dai Allora Capitate Intanto sceglietevi Le piastre Che partiamo subito Ma prendetevi Sta cazzo Di bandiera No Intanto muori Perché è attivato Comunque mi ha detto Il rame alto Il rame alto Quello di sopra Sì Quello di sopra Che c'hai anche Il cazzotto là Che ti spara I cosi Sì Che sparo Utilissimo Quindi ti metti Xenofagia Non ce l'ho Non ce l'hai ancora Mettiti un mitraglione Mettiti un mitraglione Che va benissimo Lo stesso Il prossimo Che attiva È un corneto Allora A portata di mano Non ce l'ho Mi darò 99 euro Che c'hai Che c'hai in deposito E vai con dim Prendilo con dim Prendilo No Plock Stai fermo No Adesso mettono la bandiera No Ma non lo mettono la bandiera E meno il Quello di Dico Non mi sbaglio No ma il dim Ce l'hai Su Internet Explorer Su google Su google Dim me l'aveva fatto vedere Male ieri Cioè Il mitraglione Il mitraglione C'ho il signore del tuo Va bene Esotico Come primaria Ti puoi Esotico quello Ok Come primaria Mettiti pure Che ne so Un pompa No c'ho Un altro lanciacuffi Va bene Va bene E ti metti un automatico Per fare subito il mob Vedi tu karma Il resto Il resto Puoi mettere Quello che ti pare Vasti ti metti La super Che ho detto Io E vai alla grande Aspetta Quindi allora C'è God Dove è te Alla 1 Giante Alla 2 Alla 3 Che c'è Io Alla 4 Madonna Io Raga Dite nomi Parlate di terza persona Verso di voi Io Crocco Che vado Alla 4 Parca alla 3 Isma Ismaele va alla 3 Clock va alla 4 Quindi alle track Jolly 1 2 E Jolly 3 4 Ok 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 Metto bandiera raga Mettila in alto Metti la scorta Metti la scorta Ma non in basso Basta che va avvicinato Partiamo Vai Ogni volta che lo fai muore Un problema Vai 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 E una te la bongo Muore L'avete visto Il rutto Sampo Che si chiamava qua Vieni vieni Giandu Guarda Stefano Stefano Guardami Vieni vieni Facciamo subito Il collegamento Qua bisogna essere Velocissimi Qua la barriera Altra barriera Vieni ste Rimani sempre al centro In modo che ti guardi Perché ti possono Neppure da sinistra Hai aiutato a te A mettere Vieni a Ti chiedo Che fa il collegamento Con me Un attimo Fermo 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 Dark Dark Raga Raga C'è il minotauro Dio cristo Velocci Raga Croc Ammazza Guarda Muoio Muoio Non muoio uno in mezzo alle gambe ti passo avanti 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 facciamo questo e ci colleghiamo che vado alla 2 se hai un momento di pausa perché dopo vedi che avrai un po' di pausa puoi anche già premerti il quadrato e attendermi di qua adesso proprio dai forza ma dovresti provare a quelli più d'altro ma li vedi che vengono fuori ma che cazzo ci fanno gli antibariera qua gli antibariera gli antibariera sono più amano 3 alla 1 non ci sono sono dopo no 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 erano adatta aiuto piccolino aiuto toppa gente sono orto vai dai la mano ok non più però stanno stati ma ci sono ancora gli antibariera qua ragazzi non avete fatto gli antibariera però vale trick vieni aspetta che non gli hanno fatto gli antibariera qua c'è il collegamento a 1 forca fottuna aspetta che ci sono dai che non c'ho non c'ho il basso sono veni sono veni dai minati dai che ci sta arrivando qua dai veloce 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 e non c'ho il buff raga sta venendo sta venendo sta venendo dagli pugni dagli pugni chi è che non mi ha dato no 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 stiamo ci siamo capito 15 secondi per me clockwork grazie vai giandù ok angelici qua a dove stai? alla 4 vero? si quanti secondi c'hai a ste? 23 uno fatto 20 ora arrivo baffa qua al 3 rimani al 3 rimani al 3 sto io up clock 0 secondi raga dove stanno i angelici? altric vieni ragazza senza baffa ok sto qua sto qua sto qua mi fa impaurire è giallo aggirico al 3 vai al 3 dagli una mano dai che me la gira va a partire a quello facciamo ancora la due vai a manarga non si cose vai all'1 vai all'1 vale all'1 si tieni ancora 10 secondi ok vai facciamo il collegamento si si mori guardate a jandu jandu attiva ok guardami il 3 sta a posto pure il 4 quindi mo l'1 e il 2 devono arrivare 15 secondi tu jandu ce l'hai vero? quanti secondi? eh si c'è gli angelici qua sono da me sono da me grazie ok vado un attimo alla 1 tanto gli angelici sono tutti fatti qua ho 5 secondi si si sto bene sto bene allora Ale fatti 1 2 3 tanto c'hai tempo per farti tutti e 3 io rimango fisso sulla 1 no no li ho fatti li ho fatti io con l'altro ok arriva l'1 ci viene Ale da te tanto fatti benissimo tutte e 3 io mi faccio gli angelici vattene a destra copri subito il lato a destra angelico angelico si si fatti il destra angelico giulito destra morto ok ci facciamo questo centrale pure bravo bravissimo tutti fatti vado prossimo facciamo qua facciamo copi ok ok te dove è tutto il centro vieni Stefano viene viene tutti al centro vieneielen ノ via 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 vini vini vici quindi non è bene qua c'è coso il centro qua e facciamo tutti in riga però conviene prima fa polizia facciamo un attimo poliziano tu facciamo una riga veloce veloce ok hai tutti in riga vieni qua si si va bene va bene e vieni a tavolo qua c'è scusa angelico qua freddo di mio l'angerico qua in fondo si si doveva l'angerico rega..rega..rega.. tutti in fila tutti in fila rega vedi qua gob sei qua no sei lì ok yeee eh c'è l'angerico qui ok no non____ a si ce l'ho facciamo un legaggio velocissimo adesso aspetta 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 angelico è finito è finito è finito è finito è finito è finito no non è vero non è vero che non è finito è finito buono 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 va bene va bene va bene allora ti ricordi la fotografia che ti ho fatto vedere prima in teoria non hai problemi a fare gli occhi l'unica cosa vieni qua guardami questo è il pezzo più brutto quando devi andare a fare gli occhi è la lavatrice ma tu riesci a farti tutto in un salto se tu provi te lo fai tutto in un salto questo qua ok ok tu ti fai gli occhi chi ti fa gli occhi tu guarda un po comunque ti prendi gli occhi quando vieni bloccato ti fai la centrale altrimenti te ne vai a sinistra o destra quando vedi un buff vedi che in teoria in teoria in base a quel buff tu non puoi prendere più fino a quando non ti scade si 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 ho fatto proprio una foto prima ma penso che sia semplice è certo certo lui lo dice spara all'occhio che gli tocca a lui che sarebbe il centrale se sta al centro se invece sta fuori al di fuori si mette a destra o sinistra e si fa la sua ala molto semplice e volendo posso fare io se non lo vuole fare chi è che vuole fare particelle agli occhi sceglietevi io gli occhi allora clock si fa clock si fa gli occhi aspetta mi metto il divinità no aspetta no 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 si faccio prima è una cosa stai tu quindi come pesante che ce l'hai il sussurro del verme nel caso metti di sussurro se non è xenofagia ah si ok allora il divinità me lo metto io metto la bolla falconotte per tutti i cacciatori ci sono guardiano di super che mi metto super c'è lo stregone mettiti radianza però c'è l'hai una fazione no il busto dice no le gambe eh però gli devi sparare dietro praticamente tu c'hai bomba nuova a ste quando esce il boss appena gli facciamo gli occhi finiamo a fare gli occhi la fase d'anno praticamente sarebbe dove vedrai il nostro nome tu fidati del che ne so del mio nome di seseale che quando ci vedi in fondo a uno di quei pilastri in fondo che può essere questo o quell'altro e così via ce ne stanno quattro che arrivano in fondo gli altri sono più corti dove si fa gli occhi si fa la fase d'anno lì una volta che spariamo a tutti i piccoli occhietti c'è da fare la vera fase d'anno tu una volta finito là che fai fai un salto alto e spari la bomba nuova gliela spari dietro al boss sparandolo dietro tu lo blocchi ok tutto qua non glielo devi sparare davanti perché se no non vediamo la fase d'anno comunque in una fazione lì ho trolido tipo infondere con qualcosa che ce l'ho no vabbè però ti metti bomba nuova che ti non fai niente dai tanto ci sta un altro stregone se non ho visto male no i cacciatori tutti quanti con qualcuno io c'ho la bolla io ero spezza sole a bandiera e merda aspetta lo cazzo sta a bandiera do cazzo l'avete messo davanti a quei occhi io god e ma che cazzo porca puttana oh guarda come cazzo l'avete messo facciamo gli occhi alettric alettric viene a fare i primi occhi si faccio i primi occhi e mi faccio per terzo le particelle ok chi si attituisce chi prende le prime particelle quindi alettracche io prendo ah scusa no 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 alettracche viene a fare gli occhi prendo il 5 dark quindi ismaele 5 giusto si quindi 6 6 ale prende 10 seconde e alettric prende le altre 10 si si e poi ismaele si fa l'ultima di te tanto oramai l'ha visto ismaele come si fa si 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 ne sono 5 però tu ti fai 5 dopo noi facciamo gli altri 10 10 e tu ti fai le ultime 5 e poi eh ne sono 5 si 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 e stiamo a porto se siamo tutti e avete preso il tuo bandiera si parte no a quanto pare se sei ale no non vuole iniziare si rifiuta ti vuole morire allora ah e poi una cosa eh aste quando ritornate siete in 3 molte volte capita che per ritornare indietro saltate tutti e 3 e uno di voi cade di sotto fatti il giro ti puoi fare un giro un po' più lungo ma ci metti un secondo in più a ritornare tu dopo lo vedi vai che ne so hai fatto gli occhi vattene a destra e subito a destra vi fai un angolo subito a 90 gradi oh la vita sa non sono del centro non sono del centro non sono del centro non sono del centro no 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 grazie ro Minotauro qua da 6-6 a Ale, no, scherzo. Minotauro da me. Ok, prendilo te. Vai, prendilo. Occhio, 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 boss, 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 boss. Dalle track, ragazzi, dalle track, boss. Andate, andate, andate. Minotauro, non c'è ancora. Sì, no, è qui, è sempre nella scadina. Esterno, esterno, esterno. E chi deve fare le particelle, avete preso già dieci? Tocca tarte. Ehi, sei a Ale, deve fare le particelle. Hai detto, c'è tarte. Sì, sì, ho preso, preso. Ark può andare al centro. Pensa un attimo, metto il secondo. Dark può andare al centro. Esterno, 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 fuori. Le arpie qua che ci stanno incodendo. Minotauro, do cazzo. Eccolo, ho visto, ho visto, ho visto. Markerpie, spiegati. Boss, è qua il centro. Un po' cazzo, state, ecco qua. Dark, prendite le prossime 5, io già ne ho 10. Partito il boss, ragazzi. 5, sì, 5. Raga, qua a sinistra. Eccolo, è qua. Prenda io. Vado a sinistra, io non ho. 5. Vai, vieni, 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 vieni. Va bene, un secondo, un secondo. No. No. Interno. Ecco. Io pure interno non lo vedo. Vabbè, faccio io, faccio io, fatto io. Se non si vedeva. Adesso lo devo prendere io il... Adesso devi stare tu al centro. In teoria, in teoria potete avvenire... Aspetta, perché se parte... Sì, sì, se parte, no, no, no. Fase danno, eh. Ok, venite qua, venite qua, raga. Ok, andiamo. Soltate, ci sono i mostri. Soltate, saltate, saltate. Ho finito le monite. Soltate, battate, non te ne fai... Cazzo, non posso mettere la bolla perché quello mi si è fessugato. Mettiglio la bolla, mettiglio la bolla. Per gli occhi, voi. Bolla con il fondo. Bella sta bolla, guarda, come cazzo l'ho messa. 37,99 euro. Soltate la bolla. Ma io lo si caro, però, eh. Bomba nuova, bomba nuova. È stata chiamata. Io l'ho fatta. È buono, è buono. È buono, basta, basta. Ok, teniamo al centro come prima. Stesso giro, quindi elettrico che farei gli occhi per primo. Sto già andando, sto già andando. È bene. È in fondo, dritto per dritto c'è il minotauro, raga. Dritto per dritto. Ok, qua qua, mi guardo. Va, 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 va. Ragazzi, Bossa si sta muovendo a destra. Vai, Dark. Mi è. Esterno, esterno, esterno. Vedi come faccio il giro io, Aste? Per non rischiare di andarci a... Ah, lei ha chiesto le dieci queste? No. Nel cinque, ok. Partito, no, il boss è quasi partito. Ah, tre, due. Si sta muovendo il boss. No, non è bene. Si sta muovendo. Si sta muovendo. Do sta il minotauro? Tu glielo da una mano. E prendetelo qualcuno che io... Io prendi, io prendi, io prendi, io prendi. Va bene. Questo sono dieci, Ale, giusto? Si. Chiedi inizi un secondo, please. Esterno. Perfetto. Quanto ti manca, Dark? Fini, ragazzi, mi serve... Sta bene, sta bene, sta bene, Ale. Mi notarlo al centro, mi trovo al centro. Mi sono stato al centro, ti deve prendere. Guarda al centro. Uno, però, un posto, un po' pericoloso. Partitelle ovunque. Eh, prendetele di corso. 4, 5, ho preso, ho preso. Eh, vai, 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 vai. Dove è andato il boss? È qui. Prenda io. Prenda io. Prenda io. Quanti secondi, Alice, hai? 26. Lo vedo, se no, te ne porto solo 5, se no ne esce subito. Minotauro da me. Interno, interno. Perfetto. Do cazzo era? Minotauro qua da Giandu. Fatto, quattricelle lì? Quanti secondi, Ale? Zero, però si sta muovendo. Terrivo. Vado sempre a sinistra, io? Vai, Dark, ci stava là il Minotauro prima, là. Ok. Siete messi lì? Solo le ultime 5 servono da depositare. Interno. Bene. Ho portato il regalino? Regalino, loro e mezzo. Danno, danno. Sì, 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 fa se danno, ragazzi, sì, sì. Ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io. È la prima volta che faccio il danno critico col coltellino da lancio, noi, dai. È bella. C'è sempre la prima volta. Se la bolla dietro, eh. Il capocione di Ale. No, è di Dark, il capocione. Ma camocchio, ma camocchio, ragazzi. Ottimo, bravissimi. È la prima volta che capita, eh. C'è sempre la prima volta. Che dite, sei uguale? Oh, sbaglio, no. È qua, qua. Sbaglio. Porca puttana. Oh, mi sbaglio, è sempre. Era proprio dall'altro lato. Esso tutti, esso God, appena prendi il drop, dritto nel portare lì in fondo che vai dove c'è l'altra cassa. Quella è cassa... Quella hai preso? Te lo dà solo una volta, però per tutte e tre personaggi. Dark te l'avete già preso la cassa? Sì, sì, lo c'ho questo. Allora, vedi che c'è portare lì in fondo, vai dritto. Troppo. E quello è per account, capito, stai? Eh, vai dritto. Vieni, vieni, vieni. No, no, vai dritto, vieni dritto. Vai dritto. Passa, vieni. Quando lo sapevo, già lo sapevo, ragazzi. Già l'avevo visto. Allora, non ci devi andare, ma io lo devi dare a sua soddisfazione. Già lo sapevo. È compreso nei 99 euro e 99, per esempio. Ma che cazzo ho preso, ho preso, ho preso il fioro, ho preso. Quei quelli maledetti si tembbero di tutti i voti. Che cazzo, tutti morti? Oh, non. Che cazzo è tutto. Mi sono visto tre o quattro morti. Mi chiamo Karma. Io sono sopravvissuto, non so come. Questo si chiama Karma. Bad juju. Guardiamo a terra. A proposito. Vuoi, ho fatto una scena. Ok. Hai testa di chi salto? Sopra la testa di chi? Praticamente ora c'è una sporcia a foglia. Salta qua, salta qua, salta qua. Salta la prossima e ti metti nel bordino. Vai, entra, entra, ce la facciamo. Vai. Saltare. Ti metti nel bordino e poi arrivi la fronte. Qua, dove sono io? Ciao. No. Lo scarso. No, ma che punto di armi. Ciao, torno. Ciao a te. L'ultimo che arriva fai da Stefano la cassa. A culo, ho sbagliato. Mi c'è anche a te. Non ci voglio. No, non ci sta, un'altra cassa cerebro. Come quella di prima. Salta. Anche lei qui? Anche lei qui. No. Ma che stiamo rischiando? Chissà se ci arrivo diretto. Chissà, sì, sì, sì. Chissà, 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 chissà. Oddio. Oddio. No, vabbè. Ok. Ok. Guarda sti al piede in merda, oh. Eh, comunque è tutto solido, tranne i pezzettini che ho preso io. Ah! È un pesce. È un pesce. Stregoni in merda, il titano, gli metti leone rampante, è uno spettacolo. È già quattro volte che il salto lo prende come se fosse già in aria. E poi viene la prima croce che può essere o arancione o blu. In virtù, in virtù del colore che esce, chi non fa i collegamenti, cioè io, te e Ismaele, dobbiamo andare tutti dalla parte opposta. Quindi, se è blu, si va tutti a destra ad arancione. 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 Se è blu, si arriveranno anche loro tre e si andrà avanti ancora a sparare. Perché non possiamo far danno con una fase sola, se no è troppo poco. Ok? Quindi, appena che vedete che è stata fatta e depositato il secondo, chiuso il secondo pinnacolo. Si fa un'altra pulizia perché non c'è un disastro. Appena vedete la croce, comunque qualcuno lo dirà, andate subito dalla parte opposta. Subito, 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 quindi andate a parte opposta. Ok? Appena vedete che la prima, la prima collegamento è andata, c'è blu, arancione, quello che è, subito si salta dall'altra parte e subito danno più a raffica. Io faccio diminta e poi, ok? Praticamente, valentiate voi. Comunque, pure io qua non ci stavo a capire un cazzo, ho perso un po' di lucidità. No, perché secondo me l'errore è pure mio qua. Perché il boss stava tutto a destra, quindi Ale ha fatto bene a mettersi qua sopra. Io stavo concentrato al fatto che si doveva attivare la cosa, ho fatto una cazzata anch'io. Anche perché all'inizio io stavo all'arancione, ecco perché hanno creato problemi, secondo me. Loro hanno visto che io stavo all'arancione e si sono messi al contrario. Quindi l'errore diciamo che è stato il mio stavolta. Però aspettate di attivare il pinnacolo, ci sono incendi tutti quanti i tre lì. Quindi raga, alla prima fase d'anno, appena escono le cruci, abbiamo tutto il tempo di fare una piccola pulizia. Si fa il ciclope e poi si fa l'angelico e poi si fa il collegamento. Però ricordiamoci, ricordiamoci che se la croce è bianca, quindi si deve fare la bianca, al lato bianco ci stiamo solo io, Clock e Ale. Buon? Tanto ci sta, guardami che è normalissimo uno che non l'ha mai fatto. Io l'ho fatto una marea di volte e ho sbagliato io, ma comunque l'errore è anche mio. Dai, siamo pronti tutti? Questo purtroppo non si può sbagliare a questo cazzo di raid. Chiamate Cuzzietiello per pensare. C'è un motore sposo. Dai, vai. No, taglio questo cazzo cellulare, ci sto sempre a sbattere. Vai, Ale, facciamo subito questo. Che cazzo. C'è il ciclope, raga. Un attimo che mi cambio le armi. Sì, ovviamente però io. Ho lasciato troppo le cose indietro perché se mai io sono indietro non riesco a prendere. Non mi sopportato, ah boh, un po' di interso. Io no, 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 aprite. Sperate, aprite. Dai. Andiamo dai. Mi sopportato l'arma che dicevo io, ah boh. Ok, stai di qua, tu devi sospettare, io vado di là. Facciamo un attimo il poliziale, facciamolo subito qua. Via da blu, raga. Via da blu. Mi sopportato l'altro cecchino, infatti ho sbagliato armi, secondo me. Tu quante ne hai, hai dato? Otto. Otto. Ok, fuori, fuori, fuori. Vede spalla. Quando ho depositato il primo, ditemelo che ha con il ginocchio. Ok, ok. Depositato, vai. Ok, per un minacchi. Andate, andate a blu. Depositato. Tutti a blu, eh? Vale. Stanno a sacrificare. Che culo. Ciclope. Vedetemi due ciclope, qui da rosso. Vale. Facciamo subito blu. C'è un'altra qua, c'è un'altra qua. Via da blu, ragazzi, via da blu. Veloci, via da blu. Mentre aprite, facciamo subito blu. Raga, aprite ginocchio, aprite ginocchio. Stanno a sacrificare. Raga, raga, dovete furire più di lui. Sì, 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 un attimo, un attimo. Eh, poi ci sacrificano, che cazzo c'è. È una tipa. Andiamo ad arc. Stanno passando a muoio prima. Fan puro, va. Sì, scudati, scudati. Sì, sai che ci sto un po' a perdere lucidità? Votatore dal raid. Via da blu. Via da blu, raga, via da blu, se non vi collegate. Via, via, via da blu. È un attimo. Ho messo la pozza da vicino a range. Quanto è tu? 8. 7. Vai fuori. Devi fare il ciclope. Non fate l'angelico un attimo. Eh, l'angelico c'è, sì. Ok, tutti quanti a destra, chi non fa le piastre dopo. Ok. Dai, fate l'angelico, fate. Allora, vai, clock, pronta ad aprire? Pronta ad attivare clock? Clock, 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 da divino. No, avete fatto l'aranzione, avete aperto, raga. A blu, clock. No, via da avanti. Fermo, fermo, clock, clock. Fermo, fermo. È andata persa. Sei qua, sei qua. Dai, è andata bene. Via, via, via. Sì, c'è di qua, ti spargo di minuto. Non ho fatto la... Hai fatto le bocche con me, vai. Vai, clock, clock, deve avviare. Avvicinati un po' a me, clock. Fermo, fermo, fermo. Sparate, sparate, sparate. Ok, via, fase danno. C'è la bolla dietro. C'è la bolla dietro, fuori dalla bolla, ragazzi. Dai, che divinizzato, dai. Non c'è l'una fazione. Va bene, va bene, dai. Ragazzi, poi... No, le piastre diciamo che vanno bene. Sto togliendo quelli in fondo a blu, togliendo. Dovete farlo. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Clock. Eh... Mi piazza. No, no, vabbè. Ale, mi copri un attimo? Sì. Blandieri, copate. Ah, blu. Ok, fatto. È aperto? Aprite spalla. Ok. Guarda, 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 non ci puoi. Allora, che ci sta da fare? Sì, eccomi, eccomi. Un'altra volta qui è ritolto. 9. Aprite. È qua in centro, Stena. Vai, Dark. Vai, Dark. Sono dietro, sono dietro. E facciamo blu, dietro, è geniale. Tutti i suoi arancioni, che non fa le piastre. Qua ci dobbiamo tirare un po', eh. Sarà sacrificare? Sacrifici su blu. 10. No, l'ho ammazzato. No, no, no. Aprite. Spalla. Fuori. Quando è positate, dite che vado... Capricendo quella blu. Ecco. Prope. Quando è positate, dite che apriamo blu, no? Vai, aprite blu. Depositato. Ok, andiamo. Ora vieni a farlo a blu. Aspetta, aspetta, aspetta. Fagli un attimo togli questi scudati, se no ci fanno fuori. Faccio un attimo il ciclo. Due scudati, ragazzi, due scudati. Dove? A blu. Via da blu, ragazzi. Scudati a blu, ragazzi, ancora? Scudati. Scudati, ragazzi. Scudati. Scudati, ragazzi. Scudati, ragazzi, ragazzi. Perfixes Andare. Sar Celebration. Scudati, ragazzi Tails. Scudati. Quanti? 8 Fuori Sto figlio di puttana Sparo solo a me Si si la facciamo subitissimo Voi fate polizia Faccio un attimo solo il ciclope Via tutti da l'amplona Facciate qua in fondo Facciate qua in fondo C'è il barbio C'è fatto la centrale Si si Allora Guarda come sta girato No Aspettate che ci girano Vai clock apri Clock C'è il barbio Do cazzo stai Vai alle vai sotto al boss Vai clock apri Perfetti fermi così No 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 Ale Ale Fermo 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 Ecco perfetto Ok Cambio Tutti a destra Vai Ale Faccio divinità Vai clock apri Clock Clock E ti dà Divinità 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 Come fai a servire una fazione Come fai servire una fazione Ah no La gioca l'ho trovata Qua Ah boh Facciamo una pietra solo Facciamo Si 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 qua un solo collegamento Ragazzi poi Via intanto tutti via dall'arancione Dipende Vediamo com'è No ci serve un terzo Da blu da blu da blu No Cristo Ma anche da blu si può fare Si 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 Traspare Ok Ragazzi Sia a dark Che a Stefano Poi faremo un solo collegamento O che sia da arancione O che sia da blu Si fa il collegamento E si fa subito danno Perché tanto c'è un filo di vita Cade subito Cade E' una cosa che io non c'ho mangiata tanto Eh ma che se ne frega tanto Non ti preoccupare Non c'erano Quando gli bastano due madonna No se ci stavano una fazione Secondo me si faceva Vediamo subito Spalla Scusa che gli faccio la super io E' da fare quello di prima Da blu Quindi lineale Facciamo come prima Sarve il quarto C'è riuscita Eh dai Perché se inizia da rosso E' molto probabile Che ferma Il nostro Sette aprite Quindici E' giusto il tuo giro Quattro c'è Vai Si Arancione era in fondo In fondo a destra Vai dark Vai dark Andiamo Io vado subito Vado subito a blu Stanno a sacrificare No no Buavi bravissimi Tranquillo 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 Fuori dal raio Scudati E' lo fate a blu qua? Ma no 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 9 9 No rossa 9 6 6 Ok aprite Quando depositate Ditemelo che Apriamo Scudati Scudati arancione ragazzi Un altro Un altro Un altro Ok Scudati arancione Arancione Teoria è chiusa Non mi ha pubblicato Ma forse per quello Si era bugato Vi abbiamo Scudati a blu Ragazzi Faccio ciclo a peggio In fondo a destra Due Centro Due Centro Poli Centro Poli Carabinette Ok Ma spazzate oh la croce mi era sembrato un mob ti muovi sempre qui c'è una particella dark dieci 8 fuori sono barriera finché stavo facendo una cosa un attimo polizia via tutti d'arancione via tutti d'arancione quindi dark e stefano vanno su blu allontanatevi dark e stefano e voi iniziate a far danno vado io sotto fermi 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 così vai sotto via fase danno via 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 che cazzo è successo che cazzo è stato che mi sono mosso così tanto scandaloso la mia fase del boss mostrerà il sonno no veramente lo scandalo è la fase del boss no praticamente volevo trovare c'è un certo punto non ci ho cominciato a capire più un cazzo ale credimi però io c'ho il faro della macchina casco casco lo sappiamo mi dava il casco non ci ho cominciato a capire più un cazzo